Tu-ti-du-tu-do-badu E-he-he-badu Tu-ti-du-tu-do-badu Tu-ti-du-do-du-badu E-he-he-badu Non pare che si sa di rimanere fuori vedelti in pari sono ridottili side E sono ridottili ma la porta libera con le ifuri di sedi e sono ridottili e a fare un uomo invanere di fuori Eh? Ahahahahahahahah Bierbante da Voi iniziare a vedere i video di siti! No, no, no... A Voi iniziare a vedere i video di sere per le gure di me nanti! O... O se vuoi fare... Ti avrei caduto! Avere... Ah, 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 ah! Eh, ehm... Ti avrei fare i video di sere a vedere i video di sere per i video di me nanti! I TORINI! Noi, noi, noi. Noi, noi, noi. Noi, noi, noi. Noi, noi. Noi, noi.